Era qua, qua era un pedo e cadeva qua, era messo così, qua c'è anche questo ma poi e lo è giusto, e va là, arte presa in giro, Trasportart e Salvart, il titolo è Belle Curve in Bella Rotonda, qualcosa del genere. Opera d'arte presa in giro e Trasportart da lì a qua.